Onorevole Bonanno, qual è il suo giudizio sul decreto scuola approvato dal governo Letta? Come al solito si fanno pasticci e quindi la toppa è peggio del buco. C'è addirittura una nuova norma che dice che chi è in Italia straniero fino a quando non ha finito gli studi ha diritto al permesso di soggiorno. Quindi più uno è somaro e sta qua 10 anni a studiare, 15 anni a studiare, e più il permesso di soggiorno, per cui incentiviamo i somari a venire qua e comunque questa storia del permesso di soggiorno per lo studio è ridicola perché o si fissano dei paletti ben determinati oppure è la pacchia per tutti quelli che da altre parti desiderano venire in Italia e hanno la possibilità di farlo senza lavorare e senza manco studiare. Si favorisce l'immigrazione ma non si favorisce la cultura dei nostri giovani? Appunto, si pensano sempre agli stranieri, non si pensa mai alla nostra gente. Aumentano le tasse scolastiche e quindi le famiglie sono ancora più in difficoltà. Questa è la regola e la linea voluta dal Presidente del Consiglio supportata dal Ministro dell'Integrazione che io chiamo della disintegrazione.